Onorevole, Mauroni le ha risposto, ha detto che c'è stato un congresso e la questione è chiusa riguardo a chi è capo nella Lega. È la gente che decide tutti i giorni, non è una volta per tutte. Quindi lei aspira ancora a poter guidare il partito? No, ma io faccio quello che mi dice di fare la Lega, la gente insiste, chi guida deve sempre stare in equilibrio, non è una cosa, una tanto, no. Che errori sta commettendo, Mauroni? Ma penso che il segretario forse sia una funzione di potere, non è così. Si parla di una possibile scissione nel partito? Speriamo di no. C'è questo rischio secondo lei? Sono sempre rischi, speriamo di no. Senta, ieri le ha accenato con Rosimauro, potendo tornare indietro si opporrebbe di più alla sua espulsione? Ma quando si tratta di espulsioni in conseguenza, ha presupposti, reati, bisogna che siano dimostrati, non era dimostrato niente. È stata una scelta secondo lei eccessiva quella di speller Rosimauro? No, è un tentativo di dare una risposta che servisse all'elettorato più che alla verità. Vedremo, il tempo dirà come stanno le cose.